Cosa ne pensa delle staccature che pare ci siano all'interno? Ieri c'è stata la ghermessa di Fitto, oggi c'è la ghermessa di Totti, però non è insieme. Ma senta, Totti, Totti e Fitto, sembra un cartone animato. Totti viene qua, Fitto dovrà venire qua perché sta sempre nello stesso partito nostro o no? Ha detto che non verrà. E saluta mamma. Ragazzi dopo, per favore, se no dicono che il cerchio magico vuol fare il protagonista della politica, non è così. Da questa crisi si può uscire solo se verrà immessa liquidità. Gli Stati Uniti hanno immesso 55 miliardi al mese e con questa situazione di una banca che ha aiutato l'economia erano scesi al 2% di sviluppo, sono risaliti all'8%, avevano una disoccupazione salita al 10%, sono riscesi alla quota fisiologica del 6%. La stessa cosa è stata fatta in Giappone e per ultimo, importante ed urgente, una svalutazione dell'euro. Forza Italia non è mai stata divisa, non lo è neanche questa volta, ci sono delle discussioni interne che vanno assolutamente, sicuramente andranno a buon fine e il collante ancora una volta sarà Silvio Berlusconi. Un giudizio su Marcello Dell'Utri è profondo dolore perché voglio bene a Marcello Dell'Utri. Da cittadina libera e italiana posso dire che la magistratura faccia il suo percorso e il suo dovere. Mi dispiace per Marcello.